Oggi parleremo dell'aspetto interventistico della terapia del dolore e nello specifico di tutte quelle tecniche attuabili in caso di mal di schiena. La colonna vertebrale è una struttura estremamente complessa, costituita da diverse parti anatomiche e naturalmente da muscoli e legamenti che, articolandosi tra loro, permettono al nostro corpo di stare in piedi e di muoversi. L'alterazione anatomica di una o più di queste componenti naturalmente determina dolore. Il vantaggio di poter trattare questo dolore con delle tecniche mini-invasive è principalmente quello di non dover effettuare un'incisione chirurgica e pertanto di poterla effettuare in anestesia locale accompagnata da una leggera sedazione, dando al paziente un comfort molto più elevato. Anche la mobilizzazione del paziente dopo l'intervento e la ripresa delle attività lavorative e sportive sono molto più rapidi. I pazienti si alzano poche ore dopo l'intervento. Queste tecniche ci permettono di intervenire in modo efficace sulla protrusione del disco intervertebrale, detto anche bulging discale, sia a livello lombare che cervicale. Il bulging può essere eliminato con tecniche per cutanee, cioè senza bisogno di tagli, ma introducendo degli aghi sotto guida radioscopica e andando a frammentare il nucleo polposo, poi aspirandolo, oppure vaporizzandolo mediante delle sonde alimentate con radiofrequenze o con fibre ottiche laser. Presso il centro polispecialistico COT eseguo sia la vaporizzazione laser che la risonanza quantica molecolare ad alta frequenza, tecniche che ci permettono di sviluppare l'esatta energia capace di rompere quei legami presenti nel nucleo polposo, consentendo appunto di eseguire la decompressione del disco. Presso il nostro istituto rivolgiamo una particolare attenzione al paziente affetto da dolore cronico e come avete avuto modo di vedere da questi video soprattutto al paziente affetto da love back pain, cioè da mal di schiena cronico. Queste moderne tecniche di cui ci avvaliamo effettivamente ci hanno dato notevoli soddisfazioni e le mettiamo a disposizione di tutti coloro che soffrono di queste patologie per cercare di alleviare le loro difficoltà quotidiane.